E salve a tutti amici e benvenuti nella mia linea guida personale su come affrontare al meglio il DLC, lotta per la vita su Dead Vision. Ecco i punti più importanti da tenere a mente e non perdiamo tempo, ne parliamo subito dopo la sigla. Il primo punto è proteggersi dal freddo. Appena inizia la missione ci si trova all'interno di una delle tante stanze di sicurezza sparse sulla mappa. In queste stanze si trovano subito due oggetti, un tessuto e una medicina da recuperare. La prima cosa da fare è creare vestiti per cercare di aumentare la resistenza al freddo quando ci si trova per le strade. Quando ci si trova per le strade è sempre opportuno controllare la mappa per trovare luoghi sicuri come abitazioni per riscaldarsi ed eventualmente anche bidoni. Bisogna cercare di creare più materiali possibili e trovare un'arma migliore per proteggersi da eventuali attacchi. Il secondo punto è trovare l'elicottero. Una volta che si ha a disposizione di un'arma e di un discreto equipaggiamento bisogna cercare sulla mappa la posizione di un elicottero precipitato. Nel luogo dell'incidente si trovano molti oggetti da recuperare come materiali, pezzi equipaggiamento, corazze e armi. Ma bisogna prestare massima attenzione perché in quei luoghi si possono trovare non solo nemici ma anche altri giocatori che cercheranno di prendere più cose velocemente prima di te. Se la missione è ovviamente in modalità PvE ma se la missione è in modalità PvP allora le cose si complicano perché gli altri giocatori cercheranno di ucciderti per prendere quello che tu hai preso finora. Quindi bisogna cercare di essere rapidi, eliminare la presenza di nemici, recuperare gli oggetti e andare via. Il terzo punto fondamentale per la sopravvivenza è riconosci il tuo nemico. I nemici fuori dalla zona nera sono dei tre colori, rosso, viola e giallo. Quelli rossi sono di livello 28 e 29. Di livello 28 sono quasi facilmente da uccidere perché hanno solamente la pistola. Di livello 29 sono un po' più forti e possono avere un mitra o un lanciafiamme. Quelli viola possono essere di livello 29 o 30 e si possono trovare nei punti di riferimento e lungo le mure esterne della zona nera. E sono quasi tutti con mitra, mitragliatrice e lanciafiamme e fanno molto male. Quelli gialli sono di livello 29 in alcuni punti e di livello 30 in altri punti si possono trovare vicini alla zona nera. Sono armati fine denti, non girano mai in gruppi più di due e sono accompagnati spesso da nemici viola e si trovano molto vicini alla zona nera. Il consiglio è quello di affrontarli con estrema cautela solo se si ha armi viola e magari accompagnati da una fedele torretta. Ovviamente più è alto il loro livello più il loro drop è interessante. Il quarto punto è l'equipaggiamento e la zona nera. Quando siamo sicuri di avere più di tre pezzi viola, due armi viola, medicina volontà, kit medici, vestiti caldi da permetterci di andare per le strade il più a lungo possibile ed aver creato la maschera di base per entrare nella zona nera allora entriamo in zona nera. Una volta entrati i nemici saranno solo di livello 29 e 30 e gialli ovviamente e bisogna razionare tutto quello che ci serve per poter creare solamente i pezzi di alta gamma per l'equipaggiamento, armi e mod per le armi, importantissimo per poter affrontare i cacciatori durante l'estrazione e ovviamente lo strumento più fondamentale per richiedere l'estrazione è il bengala. Per trovare le cose più facilmente si consiglia di bere acqua e mangiare cibo o barrette se si è feriti quando non si ha medichitto o se si vuole risparmiare i kit medici per quando si affronta i cacciatori. Punto 5. Loot in movimento. Tutto ciò che si muove è un loot. Chi muore o abbandona la missione di tutti gli oggetti del giocatore rimangono a terra quindi è fondamentale rubare tutto quello che si può prendere. Non si deve mai rimanere ferme davanti a degli oggetti per scegliere cosa prendere o meno perché se passa un altro giocatore nei paraggi vi ruba tutto quello che non è stato preso da terra. Un'altra regola importante è guardare la mappa per trovare delle X o rosse che indica la posizione di giocatori svenuti o morti dove è possibile trovare oggetti del giocatore morto. Sesto ed ultimo punto. Richiesta l'estrazione. Quindi facciamo un piccolo repilogo di cosa si deve fare in lotta per la vita. Quando si inizia a giocare la missione il primo compito è quello di recuperare i vestiti per proteggersi dal freddo recuperare o creare un discreto equipaggiamento creare almeno un'abilità creare la maschera per poter entrare nella zona nera e avere almeno due armi. Una volta entrati nella zona nera bisognerebbe recuperare gli antivirali recuperare un buon numero di casse dell'equipaggiamento della divisione per poter creare pezzi in alta gamma recuperare materiali di ogni genere e per finire, importante, creare il bengala per poter richiedere l'estrazione. Una volta localizzato e scelto accuratamente il luogo dove si vuole effettuare l'estrazione si deve procedere alla richiesta e da questo momento in poi si deve prestare attenzione ai cacciatori che cercheranno in ogni modo di ucciderli e far ovviamente perdere la missione. Ricordo che è presente un cacciatore per ogni giocatore presente in gruppo se siete da soli, un cacciatore se siete in quattro, quattro cacciatori. In conclusione voglio ringraziare tutti coloro che hanno guardato il mio video spero di aver spiegato al meglio questa guida su come affrontare la lotta per la vita in solitaria o in gruppo le prime volte che si affronta la lotta per la vita può capitare di perdere spesso la missione è normale è la natura del gioco soltanto con perseveranza e concentrazione si riesce ad arrivare al traguardo io sono Gartan spero di rivedervi in un prossimo video e io vi saluto 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 e io vi saluto